La, 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 la Inizia con un po' di brio la nostra intervista a Susan Dibona e Salvatore San Giovanni, ideatori dei The Villa Studios Lei direttrice d'orchestra e compositrice, lui pianista e compositore, entrambi specializzati in colonne sonore Non sono nuovi ai nostri microfoni, infatti l'anno scorso ci hanno parlato dei loro primi successi internazionali Oggi la storia si ripete, tante gioie dopo un lungo periodo di lavoro Stiamo lavorando sul nostro secondo lavoro come team con SVR Che è la televisione del sud-vesti Germania e facciamo un film con loro, secondo film Abbiamo avuto per l'ultimo film che abbiamo fatto per loro, ha suonato un musicista da Cosenza Adesso questa volta avremo anche qualche musicista locale, clarinetto, flauto, queste cose come solisti E poi facciamo al momento anche una pubblicità per Milano Design Week Possiamo dire che state entrando nel cinema che conta Sembra di sì, allora è molto positivo per noi e poi ci mostra che stiamo facendo qualcosa di giusto Perché aumentano le richieste dei registri, dei produttori E per concludere la cavellata c'è in vista anche un'importante collaborazione con un documentarista tedesco Si chiama Musin El Gomri, lui è molto gentile e con noi ci promuove tanto in questa televisione pubblica in Germania Ci ha invitato a suonare dal vivo la nostra colonna Baden-Baden l'anno scorso Questa bellissima città, la città di Clara Schumann, di Schumann, di Brahms Abbiamo scritto per lui una musica con le influenze di questi grandi compositori del passato Per i suoi documentari di natura della foresta nera Poi è piaciuto tantissimo e siamo molto grati che lui ci appoggia molto Ma la loro principale fonte di ispirazione è qui a Praia Mare Praia Mare è stupenda ed è davvero la nostra fonte di ispirazione Perché noi sentiamo davvero un'aria molto particolare a Praia Ci manca quando siamo fuori Dopo due o tre giorni, soprattutto a Susan Dopo due o tre giorni che magari quando siamo in America Lei inizia a pensare E visto quando passeggiamo sul viale Quindi io già capisco che le manca Quindi siamo innamorati Più di amarla siamo proprio innamorati Quindi a volte moltissime musiche sono uscite magari Facendo una passeggiata sul lungomare di Praia Quindi assolutamente, è una città totalmente artistica Ed ora anche un'importante nomination Quella di Colonne Sonore I lavori di San Giovanni e di Bona potranno essere votati online Siamo nominati in due categorie In un concorso molto molto importante Dalla rivista numero uno in Italia di Colonne Sonore Siamo leggermente ancora sotto shock In passato è stato vinto da John Williams, da Morricone Desplat, premi Oscar Sono stati nominati e hanno vinto E noi già essere nominati Veramente ci fa sentire molto molto orgogliosi di questa cosa Ecco, la cosa importante che dobbiamo sottolineare Dietro di voi non c'è nessun grande produttore Cioè voi siete indipendenti Sì, molto 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 indipendenti C'è un lavoro grandissimo C'è un lavoro grandissimo Davvero si dorme poco Però lo facciamo con un'energia, con un entusiasmo Davvero come dici tu Senza nessun aiuto di nessun tipo Però abbiamo persone di grande professione Poi che stanno vicino a noi Che ci danno una mano Nel senso proprio artigianale, artistico Quindi siamo molto orgogliosi Le nostre famiglie che ci stanno vicino Tutto questo, solo questo